Salute a tutti, ben suggerito di Agraona si muove in Carbuccia, un paese di 400 abitanti alla nada. E per parlare con noi, per far scoprire il paese, a mandare a scontrare subito subito un mare Pierfrançois Bellini. Salute. Salute Steve. Salute andiamo in Carbuccia. Ci stiamo a fare due scuole, la comunitàió di comune e la proscia di Maria. Una scuola è stata appENSata da tre anni fa, perché siamo arrivati all'inc questions. Sono arrivati da quella scuola. C'è in un Nuopera, c'è quello di recuperare si ci sono andati a sciore nei carbi, e qui sotto al cibo per i carri se scellono sceglie di cucine e il resto c'è qui t'acorm çıkare. Poi c'è una scuola di paese, ho tutti i servizi che vanno in scuola. Noi mi vanno a la garderia, c'è la cantina, c'è il trasporto scolare, c'è tutti i servizi, perché la gente può essere lasciata da scuola e andata a lavorare, se andata a 10, se andata tranquillamente. E un'altra volta abbiamo una microcrescia che devono completare tutti i servizi. Perché la gente può essere in questo paese, ho tutti i servizi per i parenti, se andate. Poi lui, che è la casa dell'Anciano, spiega che è questa casa? È questa casa, è una casa che c'è stata a comprare la famiglia di Gabouche, in cui l'officio di Vonda e la ragazza ci aiutati a fare questo vestimento. Dopo la famiglia ha fatto la scuola in drento e fatta per le persone dell'Anciano del Paese. Quindi c'è tre persone che sono in questa casa, e permette a le persone dell'Anciano di essere nel Paese e di poter finire tranquillamente in DL, che aveva amici, soprattutto per le vena vela, e un'altra vita, un'altra fin di vita. Come è stata a comprare questa casa? Come è realizzata? Allora, questa casa è in vendita. È un copio che l'ha installato, un Gabouche che aveva fatto questa casa e che l'ha messa in vendita. Allora, la comunità c'è un diritto di prevenzione, non c'è tutto ciò che è casa e terreno costruttivo in Paese. non c'è questa persona che vendita, l'ha indicato che la Maria era realizzata in questa casa, e così che mi compro questa casa, per fare questa casa dell'Anciano. ci sono stati aiutati. Allora, c'è l'Officio Vandario che ci ha aiutato a comprare questa casa, e c'è la qualità di Corsica che ci ha aiutato a sair, a non trovare il lanciamento, perché il progetto globale ha fatto 480 mil euro. e non c'è l'Officio Vandario, quanto c'è stato da iutato? 80-800, c'è stato 370 mil euro da iutato. Allora, qui andiamo? Allora, andiamo a vedere l'Andrea Lamore, che è ancora un'uomo e a Chiara, c'è stata una bella esplastazione, c'è un ligo maio, c'è un po' di tutto, vaule, pomati, fagioli, esplastazioni che non vogliamo in Paese. Stare in Paese, anche se lo visite, di campani qui, ad esempio i campatori qui. Sempre stato in Paese, sempre stato in Paese, e ciò chiede, vogliamo fare qualcosa, par noi, par la gente, di sanno, e di lavorare tutta la nata in Paese, di stare in Paese. Se vuoi sempre campare, di s'attività in Paese? Si può campare, si può campare, è dura, ciò a pesa settimana, e lavorare in Asire, si può campare, quindi ciò a pensare, non si può campare, è una carriera. Ma ciò a lavorato, è una carriera. E sicuramente ciò, ciò a pensare, 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 ciò che si è passato oggi, a pensare, ciò 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 a pensare, da mettere un po' alipica in Paese, Per noi l'agricoltura in paese, la Deo, l'agricoltura, è questo che fa campare il paese. La comune è orientata tanto l'agricoltura, abbiamo 400 tettini di zona agricola protetta, abbiamo una FB che si occupa di terrene, per noi il progetto non è mica di 200 case, abbiamo la zona agricola protetta, la comune fa 1.400 tettini, la zona agricola fa 400 tettini, abbiamo la FB che può fare la convenzione con l'agricoltura, può s'occupare di terrene privati, mettiamo in piazza tutte le arnesi che ci ho, per aiutare l'agricoltura a installare il paese. Al di là della zona agricola protetta, la comune ha compiuto bene un locale d'urbanismo anni fa, un progetto che ha per scopo di impegare al massimo le costruzioni di terrene libri e di abbiate. Il paese si ha scommesso di svilupparsi godente cristiana all'annata, minimizzando le residenze secondarie.